Un evento in programma il prossimo 8 settembre, la presentazione del libro V19 del medico Novax, negazionista del Covid, Massimo Citro della Riva, a Campo San Martino, con il patrocinio del Comune. Esplode la polemica sulla decisione del sindaco Dario Luigi Tardivo a prendere posizione duramente in primis l'ordine dei medici odontoiatri di Padova. Fermo restando il diritto di chiunque di esprimere le proprie opinioni, qualunque siano, e anche il diritto delle amministrazioni a concedere gli spazi per cui queste idee vengono espresse, cosa diversa del patrocinio. Il patrocinio è in qualche modo di fatto un sostegno ed è un'approvazione di una linea. è veramente che il Comune dia questo segno nei confronti di teorie che non sono assolutamente supportate da nessuna comunità scientifica internazionale riconosciuta. È una cosa abbastanza, come dire, inquietante. Con il patrocinio si legittimano le teorie espresse dall'autore di un libro prive di riconoscimento e condivisione scientifica a livello nazionale ed internazionale, spiega il dottor Crisara, ricordando il sacrificio di tanti medici che sono morti e che sono stati in prima linea negli anni durissimi della pandemia. Il sindaco del Comune di Campo San Martino spiega che la presentazione è all'interno di una rassegna conferenza del venerdì, uno spazio libero di dibattito e attualità. Il tema del Comune di Campo San Martino è il tema del Comune di Campo San Martino.